Ciao bianconeri, eccoci di nuovo qui e con grande piacere che do inizio ufficialmente alla nuova serie dei miei video Calciomercato News. Se mi seguite dall'inizio, da quando ho creato il canale ad agosto del 2020, quindi otto mesi fa, praticamente sono partito subito parlando di calciomercato, perché è una cosa che mi piace tantissimo, mi appassiona, mi diverte, mi rilassa e soprattutto grazie a delle amicizie, dovute anche al mio lavoro, che da 22 anni lavoro nel mondo della moda e quindi ho avuto modo di conoscere tanti personaggi legati al mondo del calcio, diciamo che ogni tanto mi arriva qualche soffiata. Come ben sapete, se mi seguite regolarmente, io però non voglio sparare nomi a caso, fare l'insider, perché questo non sono, ma voglio assolutamente che dietro a quello che io vi propongo ci siano anche delle conferme giornalistiche degne di nota, cose che potete controverificare spesso e volentieri. Ecco, fatta questa dovuta premessa, perché è la premessa che io faccio sempre, l'ho fatta a settembre, l'ho fatta a gennaio, quando siamo ripartiti col calciomercato e quindi adesso col calciomercato estivo ve lo ripeterò fino alla nausea, per non sembrare un fenomeno che non sono assolutamente, però insomma parliamo insieme di calciomercato con leggerezza, perché so che poi gli animi si scaldano, c'è gente che pensa di sapere più di altri e si creano anche delle discussioni. Andiamo tutti leggeri che rimaniamo amici, ok? Ragazzi, allora oggi mi voglio concentrare sui centrocampisti, c'è un motivo molto specifico, più di uno a dire la verità. Allora sembra che a Torino finalmente hanno avuto l'illuminazione celeste e si sono resi conto che effettivamente il nostro centrocampo fa schifo ed è totalmente da rifare. Voi direte, sembra una banalità, ma vi assicuro che a Torino c'era qualcuno che fino a ieri pensava che bastasse un innesto. Così non è. Oggi ho fatto un video su Zinedine Zidane, punto di domanda, quindi possibilità alla Juve uno dei nomi papabili, secondo me è uno dei nomi papabili e non solo secondo me. Quindi, dando per assodato il fatto che Massimiliano Allegri e Zinedine Zidane siano i nomi più caldi per quanto riguarda il sostituto di Andrea Pirlo, ma, come vi ho spiegato molto bene anche nel video di oggi, noi non abbiamo nessuna certezza. Quindi a oggi non sappiamo se verrà Allegri, se verrà Zidane, se verrà riconfermato Pirlo, perché c'è anche questa possibilità, o se la Juventus virerà su un altro allenatore. Io ho detto oggi nell'altro mio video, che insomma finito questo vi invito ad andare a vedere, che probabilmente sapremo qualcosa di più verso il 27-28 di maggio, perché c'è il CDA della Juve, il 27, quindi il consiglio d'amministrazione, e lì secondo me qualcosa verrà pur deciso del futuro, magari non solo l'allenatore ma anche qualche dirigente. Detto questo, io vi posso dire una cosa, che per quanto mi è dato sapere, sia Allegri, sia Zidane, adesso non voglio parlare dell'allenatore perché ho già fatto il video oggi, ne faremo altri, però sia Allegri sia Zidane hanno espresso la volontà e la necessità di cambiare il centrocampo della Juve, qualora venissero, qualora venissero, cerco di essere chiaro per chi fraintende le parole, e non solo prendere un giocatore, ma cambiarne tre, entrambi. Quindi noi sostanzialmente abbiamo saputo, dico noi plurale maestatis ovviamente, ma in realtà sono io, me medesimo, noi di YouTube, che in realtà sono io, abbiamo, ho saputo che sostanzialmente questi due allenatori hanno tre idee in testa, cioè tre cambiamenti, tre giocatori da prendere. Sostanzialmente un play mediano davanti alla difesa, una mezzala regista, quindi uno che sappia costruire il gioco, e la terza figura centrocampo, una mezzala che sappia fare degli inserimenti, sappia segnare, cosa che ci manca assolutamente, come il pane. Ok, quindi tre figure di questo tipo. Una di queste tre figure è Manuel Locatelli. Tutto il mondo Juve, lo sapete, non è una novità, e mi ci aggrego anche io, tutti noi diamo quasi per fatta Manuel Locatelli. Manca veramente poco, però la Juve e il Sassuolo si sono praticamente accordati, Locatelli e la Juve hanno l'accordo, mancano le firme, mancano gli ultimi dettagli, ragazzi, manca veramente l'ultimo mattoncino. Manuel Locatelli è uno di questi tre, che verrà alla Juventus, e sarà probabilmente quello che sarà messo davanti alla difesa. Ok, mi stavo ingozzando. Davanti alla difesa. Ora veniamo alle altre due figure. Un altro nome caldissimo, che ricopre, diciamo, secondo me, la figura della mezzala regista, è quella di Awar. Il buon vecchio Awar, che vecchio non è ovviamente, ne abbiamo parlato tantissimo, non si è concretizzato a settembre, per varie richieste di Aulas, pare che comunque la Juve si ributterà a capofitto su Awar, perché è un pupillo, perché lo si vuole e quindi si sono già ormai fatti il nodo e vogliono Awar. Quindi diciamo che la seconda figura al centrocampo, dopo Locatelli, sarebbe quella di Awar. Però Awar non è così avanti come Locatelli, assolutamente no. Quindi teniamo monitorati tutti i movimenti, eccetera, con il Lione, che ben sapete deve anche riscattare Mattia Desciglio, ormai questa è cosa quasi certa, è quasi fatta. Quindi vediamo un po' le discussioni. Ma sul terzo centrocampista e qua ci si diverte. Qua entra Radiomercato, entrano i vostri commenti, vi piace, non vi piace, cosa ne dite? Perché i nomi, ragazzi, qua sono tre. Li avete visti in copertina, quindi non vi dico niente di sorprendente. La figura che dovrebbe essere quella che va a ricoprire la mezzala che va a segnare, la mezzala di inserimento, i nomi sono quelli di Paul Pogba, ancora una volta, e di Milinkovic Savic. La novità su Savic è che ha espresso la volontà di lasciare il club della Lazio. L'ha proprio espresso, è uscita la notizia ieri, quindi lo potete leggere tutti. Pogba è un nome caldissimo che ogni volta ripristiniamo, ma sembra la volta buona, sembra, non è detto. Io non do percentuali a sto giro, non mi azzardo, perché alla fine non verrà manco quest'anno, sicuro come loro. Comunque, Pogba e Savic sono due papabili centrocampisti della Juve, cioè, comunque, interessano molto alla Juve, diciamo, o uno o l'altro. C'è una terza scelta, che è De Paul, Rodrigo De Paul. Ok, questi sono i tre nomi che andrebbero a ricoprire quel ruolo che vi dicevo all'inizio, cioè quello della mezzala che va a segnare, la mezzala di inserimento. Ditemi voi chi preferite tra Pogba, Savic e De Paul. Ovvio che sono tre nomi d'oro, tre nomi splendidi, io li adoro tutti e tre, ok? Sarei contento a prescindere, se venisse uno di questi tre. Sono anche quasi pronto a scommettere, dieci euro così, giusto per buttare lì una cifra a caso, che uno dei tre lo prendiamo. Bah, voglio essere positivo, voglio essere fiducioso, voglio pensare in grande. Certo è allora che c'è un certo costo. È lì il colpo a centrocampo è quello, alla fine. Forse De Paul costa un attimo di meno, ma non è solo questo il problema. Il problema è che, ma qua si apre tutto un mondo di discussione, De Paul e Savic piacciono molto anche ad Antonio Conte. Non è ancora chiaro cosa sarà dell'Inter, perché l'Inter sapete che non naviga in ottime acque da un punto di vista finanziario, l'ha detto anche ieri Zanetti, l'ha dichiarato, la situazione economica del club è abbastanza preoccupante. Quindi bisognerà anche vedere se Conte addirittura clamorosamente lascerà o meno l'Inter, ma potrebbero non essere affari nostri, però dato che ci piace il calcio seguiamo anche questi sviluppi. Insomma, De Paul molto vicino all'Inter già da gennaio e Savic sono sicuramente due figure che interessano l'Inter. La Juve come si comporterà? Lo staremo a vedere. Come dico sempre, la posizione finale della classifica sarà fondamentale, perché entrare in Champions League significa avere sostanzialmente 90 milioni di euro in più. Infatti, non qualificandosi per la Champions League, la Juventus hanno stimato una perdita ulteriore di 90 milioni di euro. Quindi, questo per farvi capire l'entità del dramma sportivo ed economico, che sarebbe non andare in Champions League, non qualificarci per la Champions League. Ok ragazzi, io ho cercato di darvi un po' le ultime notizie sul centrocampo, spero che vi abbia fatto piacere, ma non ho finito qui, quindi state connessi perché devo fare la conclusione del video. Segnatevelo, dimenticatevi, isco, ok? Non ne voglio più sentire parlare. Isco no, nel senso che non viene, ok? Basta, non me lo chiedete più. E anticipo quello di cui discuteremo in uno dei miei prossimi video, io vi voglio parlare degli attaccanti. Attaccanti c'è una nebbia totale, ve lo anticipo già, quindi non aspettatevi cose clamorose. Però vi voglio spiegare come mai sugli attaccanti ancora c'è tanto mistero, o comunque non abbiamo le idee chiare. Ne parleremo insieme in un mio prossimo video di Calciomercato News. Nel frattempo io vi abbraccio e sempre Forza Juve.